Innanzitutto vi chiediamo se vi va, se vi sta piacendo questo concerto, allora potete andare su facebook e mettere mi piace sulla nostra pagina Brad & Pussy, si scrive, fai vedere come si scrive, si scrive così, ci abbiamo il banner e praticamente siccome era della stessa misura del giro torace del nostro cantante lo stiamo usando per questo, allora, questo pezzo comunque è uno dei nostri cavalli di battaglia da più di dieci anni, il titolo è Money on the Desk and the Pussy Money on the Desk, Money on the Desk, Money on the Desk and the Pussy Money on the Desk, Money on the Desk, Money on the Desk, Money on the Desk and the Pussy Money on the Desk and the Pussy Money on the Desk and the Pussy Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.